No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, pischietola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gohan è il mortire delle femmine, ne subisce di tutte le maniere quel povero Gohan. Eh no, perché lei sta distratta a guardare là e lui l'annunza. Povero Gohan, tutte le femmine, oh, non stai una femmina che non si ingozza con Gohan. Ma è vero che lui è da pastiglio perché vuole essere da pastiglio, però lei è bravo. Non possiamo andare là. Lei mangia sempre l'erba. E va bene signora, tanta l'erba non va male. A me è quella giusta che mangiano loro, così dicono. Però certe volte vomita. Certo. E potresti che loro, sai cosa fanno? Io ti capisco, leccano anche le pipi che stanno dietro di teni. Eh, forse sì. Allora succede questo perché Gohan non lo fa, però qualche volta che lo fa, per esempio io lo vedo, allora ogni tanto vomita. No, lei mangia l'erba quando sta carica, in effetti non ha mangiato i croccantini, quando sta carica di stomaco e poi la vomita. Poi ci da solo i croccantini, è vero? Adesso sì. Solo quelli di te. No, noi decine ci... Cioè, fin allora lei gli mettevo in mezzo un po' di carne. Però siccome... La carne cruda o la carne cotta? No, cotta, salsiccia cotta. Ecco. Siccome lei, quando arriva la prima vita, aveva la dermatite. No, ho visto che c'è come la dermatite. E' la dermatite, allora preferisco a quel periodo di non darmi niente, do solo i croccantini che mi ha dato la veterinaria. Invece Gohan, se non sa la pesi stacchino né croccantini. No, lei non la mangia. E lui ci piace questo. Ma lei sape cosa gli piace? La salsiccia di rossi. Se la vai a prendere da qualche altra macelleria, la riconosce. Eh sì, il sapore è quello. Il sapore. Questi sono poi tradizionalisti. Sì. Significa che quando sapete una cosa, quella è quella. Come infatti se avete Gohan a casa, la sa memoria. Come vede un oggetto che è nuovo o un oggetto fuori posto, lui deve bagliare. Sì. Fino a quando noi gli diciamo Gohan, ma quello è così, lo facciamo avvicinare. È così. Sì, così fa lei. Ti può ridere. Certe volte lo sentiamo di bagliare. E sta bagliando che vi posso dire, ha la mazza, ha un paio di pantaloni che sta là. Come fa lei? A seconda te la cosa che non gli piace come sta. Perché loro memorizzano tutto e questa è la cosa forte di loro. E questi Giagli non li sta mangiando perché c'è di percacchino.